Ciao, sono Giovanni e vi segnalo un film che si può vedere gratis su YouTube e che è un piccolo gioiellino italiano degli anni 70. Si chiama Pane e cioccolata, il protagonista è Nino Manfredi e il regista è Franco Brusati, un grande regista di teatro e di cinema che però in qualche modo e probabilmente ingiustamente è un po' dimenticato. Di che cosa parla Pane e cioccolata? Parla di un lavoratore italiano in Svizzera, quindi racconta il momento in cui gli altri, i migranti, gli stranieri eravamo noi. Nino Manfredi è un poveraccio che viene dal sud d'Italia con un accento, un pesante accento ciociaro, che si trova in questo mondo la Svizzera verde, pulito, rigido, distante, freddo, che lo accoglie con molta diffidenza. Lui fa il cameriere e nel suo lavoro di cameriere deve lottare contro altri immigrati, contro un turco che cerca in tutti i modi di fregargli il lavoro perché poi ci sarà un imbuto e soltanto uno potrà essere assunto. Una lotta tra poveri, che è quello che è successo per milioni di italiani che sono andati come migranti in Svizzera, in Germania, ovviamente in America. Qui si parla dell'emigrazione degli anni 60-70, che è più rivolta verso l'Europa, l'Europa Svizzera-Germania, l'Europa di lingua tedesca e che ha portato un po' di benessere agli italiani ma anche tantissime sofferenze. Non ultima quella della lingua, una lingua dura, ostile, contro cui c'è da combattere in qualche modo. Nino Manfredi getta nel film tutta la sua umanità, la sua ironia, il suo disincanto ed è un personaggio meraviglioso. Tra l'altro incontrerà un altro italiano nel film interpretato da Johnny Dorelli, un miliardario invece, un miliardario annoiato, disilluso e pieno di scheletri nell'armadio. E' bello anche l'incontro fra questi due personaggi, uno ricco ma senza quasi più voglia di vivere e uno povero attaccato alla vita come nessun altro. Poi ci sarà una valanga di eventi che porteranno Nino Manfredi a situazioni paradossali, una su tutte, quella di vivere in una specie di pollaio invaso da piume di gallinacci, insieme a una famiglia di italiani piccoli, brutti e neri che però a un certo punto, come se andassero al cinema, spiano i vicini, diciamo i padroni, cioè degli svizzeri alti, biondi e bellissimi che vanno a cavallo, come se fossero degli eroi di un'altra vita, di un altro pianeta, di un'altra storia. E il momento in cui guardano come se fossero, non lo so, dei bambini affacciati alla vetrina di un ristorante, questi uomini belli, come se appartenessero a un'altra razza, è un momento straziante del film. Film che ci dà un altro momento meraviglioso, quello in cui Nino Manfredi decide di diventare uno svizzero, cioè di atteggiarsi come loro e quindi si tinge i capelli di biondo e va in un bar dove si trasmette la partita dell'Italia, una partita internazionale, è una partita nella quale tutti gli svizzeri tifano contro l'Italia e quindi lui ha un momento in cui deve decidere da quale parte stare e finge di essere uno svizzero tifando contro la sua Italia. Ci sono dei momenti paradossali che fanno ridere, ma che fanno anche piangere, che danno dolore, che sono strazianti. Ecco, questo mix dolce-amaro è la grande arte di questo film e, se si vuole, di tutta la commedia all'italiana, commedia all'italiana che spesso ha raccontato i difetti degli italiani. In questo caso, però, secondo me, riesce a raccontarne i pregi e quindi a farci stare ancora di più dalla parte di quest'uomo, di questo protagonista, ripeto, un Nino Manfredi meraviglioso nella più grande maturità della sua carriera, una carriera, peraltro, straordinaria. Pane e cioccolata su YouTube, coi sottotitoli in inglese, ma noi lo guardiamo in italiano.